Ancora un pareggio per la Pistoiese, la squadra di Mister Cascione non riesce a vincere. È successo anche con il Real Forte Querceta al Melani, dove non si è andati oltre lo 0-0. Ancora tante difficoltà in fase realizzativa e ancora punti persi per la strada. Tanta voglia di riscatto per gli arancioni dopo l'amaro pareggio contro la Gianna Arminio, una formazione iniziale rivista dal tecnico vista l'assenza in difesa di Biagioni per squalifica e il forfè di Barzotti per infortunio, debutto dal primo minuto per il giovane Di Biase in attacco. Un primo tempo che regala poche emozioni e sono limitate anche le occasioni dall'una e dall'altra parte degne di nota. Per i padroni di casa ci provano timidamente Macri e Di Biase, sul fronte opposto Bartolini, ma nessuna preoccupazione per Urbietis. Si continua su ritmi lenti, gioco molto prevedibile quello della Pistoiese e i primi 45 minuti non hanno molto altro da raccontare, 0-0 e tutti negli spogliatoi. Nella ripresa gli arancioni provano ad aumentare l'intensità, cercano il gol che però non troveranno mai. Mister Cascione parte con i cambi allora, inserendo Florentin e Ortolini al posto di Di Biase e Davi, ma il risultato non si sblocca. Sul finale c'è spazio anche per Barbuti e proprio lui potrebbe sfruttare meglio questa occasione. Servito da Citro, si trova tu per tu con Raspa, ma spreca così. Quattro minuti di recupero e termina il derby toscano, 0-0. Un punto a testa che soddisfa molto di più i versiliesi, poco i pistoiesi che perdono altre posizioni in classifica dopo sei giornate di campionato. Tutto questo pensando all'obiettivo del club. Adesso va archiviata anche questa gara per poter liberare la mente verso il derby di mercoledì sera a Prato.